Chieti, quattro bellezze ed ora da queste parti sognare non costa nulla. Al cospetto di un porto d'Ascoli Arcigno e quarto in classifica, non a caso, i neroverdi buttano il cuore oltre l'ostacolo e in pieno recupero portano a casa tre punti fondamentali per il proprio cammino futuro. Gara affidata a Domenico Mallardi di Bari. Prima parte di gara di studio tra le due squadre, ma a farsi preferire il Chieti, che si fa vedere dalle parti di testa al dodicesimo con una girata di testa di Orlando da centro area con la sfera che termina a lato. Qualche minuto più tardi ci prova anche Fabrizzi con una conclusione delle sue, ma per lui questa volta la mira non è precisa. I teatini provano ad approfittare di questo momento e chiudono la formazione marchigiana nella propria metà campo. L'episodio a favore dei neroverdi che sblocca il parziale al ventesimo. Calcio di punizione di Marianis, codellato in mezzo, il tiro di mele viene ribattuto con il braccio da D'Alessandro e per il direttore di gara nessun dubbio nell'indicare il dischetto. Tra le timide potesse degli arancioni ospiti. Trasformazione affidata allo stesso centrocampista che spiazza testa e va a festeggiare. Sotto la Volpi il suo primo gol stagionale. Premiati dunque gli sforzi offensivi della squadra di casa, ma il Porto d'Ascoli ha una buona occasione poco prima della mezz'ora. Calcio di punizione da posizione invitante per un giocatore dalle capacità balistiche come Napolano, ma nell'occasione il numero 10 non riesce a dare l'effetto giusto con la sfera direttamente tra le braccia di Forti. Dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con i neroverdi avanti per 1-0. Ad inizio ripresa cambia Ciampelli, fuori Marini, Ammonito, dentro Evangelisti, ma le cose per il Porto d'Ascoli si mettono subito male. Fallo ruvido di D'Alessandro sulla zona mediana del campo, per lui doppio giallo e doccia anticipata. Nonostante questo, meglio gli ospiti in avvio di ripresa che al dodicesimo ci provano dalla distanza con Pietro Paolo, pallone di pochissimo fuori. Il Chieti più compassato non riesce, così come fatto nel primo tempo, a chiudere gli avversari nella propria metà campo e un episodio permette agli ospiti di pareggiare. Punizione a premiare l'inserimento di Spagna, il quale gira verso il secondo palo con la sfera preda di Forti. La palla non sembra aver superato la linea di porta, sì invece per il secondo assistente de Chirico di Molfetta, che indica il centrocampo al direttore di gara tra le vibrandi proteste neroverdi che lamentano anche una carica al portiere. Lucarelli inserisce anche Verna, Coulibaly e Puglielli per dare centimetri e qualità alla manovra offensiva e all'ultimo respiro il Chieti passa in vantaggio. Pietrantonio dalla sinistra pesca sul secondo palo proprio Puglielli che irrompe di testa e mette le spalle di testa. Festeggiano i tifosi in tribuna mentre sul campo si accende una mischia tra le due panchine, a farne le spese Napolano da una parte e Mister Lucarelli dall'altra. Alla ripresa del gioco Porto D'Ascoli rimane addirittura in nove per l'espulsione di Rossi Reo di aver centrato con una gomitata Orlando. Al termine dell'extra recupero gioia grande in casa neroverde che con questi tre punti vede ora a distante la zona playoff lontana soltanto due lunghezze. Finale amaro per il Porto D'Ascoli che già pregustava il pareggio e invece torna a casa a mani vuote. Tre punti arrivati all'ultimo respiro che paradossalmente un girone fa non sarebbero mai arrivati. Come ve lo spiegate? Il Chieti è cambiato? Il Chieti non è cambiato, noi sapevamo della nostra forza, sapevamo del nostro lavoro e siamo stati tranquilli. Quindi questa è stata la nostra forza, rimanere tranquilli, rimanere tutti uniti dalla società, dal presidente, dal patron fino al magazziniere. Siamo rimasti uniti, sapevamo che stavamo facendo bene, che magari qualche risultato non stava arrivando. Però quella era la strada giusta e adesso si sta vedendo. Penso che la prestazione è stata buona, ma buona da parte di tutti. Quando si vince vuol dire che si fa qualcosa di importante, siamo contenti, siamo contenti tutti. Io faccio un applauso a chi è entrato, perché chi magari sta giocando un po' meno e oggi ha dato il giusto valore a quello che fa in allenamento e quindi noi dobbiamo continuare così. Quattro vittorie consecutive, chiedi che a tre punti della zona playoff, qual è il prossimo obiettivo? Noi non ci dobbiamo porre obiettivi, dobbiamo ragionare partita per partita. Adesso ci riposiamo, prepariamo domenica una trasferta difficile, lo sappiamo, sappiamo della forza del Fano. Però noi siamo tranquilli, andremo a Fano a giocarci, la viso aperto, magari facendo tre punti, per dare continuità e per cercare di fare qualcosa di importante finale.